Carissimi amici, salve a tutti. Allora, purtroppo sappiamo tutti quello che è successo in Turchia e in Siria. Questo maledetto terremoto che veramente ha sconvolto non solo la Siria e la Turchia, ma anche i nostri cuori, i cuori di tutte le persone per bene, per tutti gli esseri umani che hanno dei buoni sentimenti nel cuore, questo terremoto ci ha addolorato, ci ha veramente ucciso anche a noi, ci ha procurato tristezza. E allora il primo pensiero va proprio per tutte le vittime, di questa terribile tragedia per coloro che hanno lasciato questo mondo, ma soprattutto per coloro che ci restano in questo mondo senza i loro cari, per chi ha perso le proprie famiglie, la mamma, il padre, i fratelli, le sorelle, i parenti, gli amici. E allora un pensiero e un abbraccio va veramente a questa popolazione sconvolta da questa tragedia, a tutta la Turchia e la Siria. È un abbraccio anche a noi, umani, che siamo addolorati per questa tragedia. Detto questo, apriamo una parentesi e vi dico un mio pensiero che durante questa tragedia mi ha sconvolto e mi sconvolge ancora. Allora tutto il mondo si è mosso per mandare degli aiuti alla Turchia e alla Siria. Tutto il mondo, compreso Putin, forse Putin, cioè la Russia, è stato uno dei primi a mandare sia in Turchia che in Siria il suo aiuto. Aiuto in uomini per i soccorsi, aiuti di viveri di generi importanti come tende, coperte, perché adesso queste popolazioni non hanno più niente tranne che l'aria. E allora quindi complimenti a tutte quelle nazioni che immediatamente hanno mandato a queste popolazioni il loro aiuto. Ma c'è una nazione grande, forse la più grande del mondo, che invece silenzio, come se niente fosse accaduto. E questa è la motivazione di questo video. Gli americani, allora dai miei argomenti adesso escludiamo il popolo, i cittadini americani che non c'entrano proprio niente. Mi rivolgo ai poteri forti, ai potenti, iniziando proprio dal presidente Biden. Avete per caso sentito il presidente americano che ha detto solidarietà, mi dispiace, manderemo questo, faremo questo? L'avete sentito? No. E non lo sentirete. Perché? Vi ricordate quando ci fu il terremoto in Italia, l'ultimo a Matrice? Vi ricordate? Subito ancora non erano passate 24 ore. E il presidente americano immediatamente, noi siamo disponibili a mandare uomini e mezzi e solidarietà all'Italia per il terremoto di Matrice. Non erano ancora passate 24 ore. Dal momento che registro questo video sono passati già due giorni, due giorni dal terremoto in Turchia, in Siria. Nemmeno una parola, nemmeno un aiuto da parte dei potenti americani. Perché? 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 Perché l'Italia sì, la Siria no. Perché? Perché l'America ha un po' di problemi con la Siria. Infatti, sono già diversi anni che ci sono delle sanzioni da parte dell'America per la Siria. Le sanzioni, lo sapete cosa sono, no? Come l'Occidente le ha messe a Putin. Praticamente non importiamo il materiale americano, noi non facciamo entrare i nostri materiali in Siria, la Siria non può portare in America. Insomma, tutto un business e un commercio dei limiti che vengono dati alla Siria per tante ragioni politiche. Ma la politica degli americani è sempre la stessa. Cioè, entrare in quel territorio e fare quello che gli pare e piace. Questa è la differenza tra la Siria e l'Italia. In Italia, invece, gli americani, mica da adesso, da dopo la Seconda Guerra Mondiale, fanno quello che vogliono. Infatti, ci sono basi Nato, basi per tutta l'Italia, dal nord al sud, più a sud che al nord. E quindi ci sono centrali americane, la Nato è libera di fare quello che vuole e soprattutto i nostri potenti politici italiani, quando parla all'America, si togliono il cappello e praticamente si abbassano i vandaloni. Questa è la differenza. Mica perché noi siamo più belli dei siciliani. Questa è la differenza. Come, per esempio, l'Ucraina. L'Ucraina, quel pagliaccio, ecco qua, quel pagliaccio di Zelensky, il presidente dell'Ucraina, si è venduto agli americani dopo che gli ucraini gli avevano dato il 70% dei voti dove lui aveva promesso la pace, la pace, ma appena è stato eletto si è venduto agli americani. E questa è la guerra di Putin con l'Ucraina perché vuole entrare nell'Europa e adesso gli americani andranno, quando finirà la guerra, se mai finirà, andranno a mettere i missili fuori casa di Putin e le basi nucleari in Ucraina perché Zelensky si è venduto agli americani, come hanno fatto in Italia. la Siria ha detto di no, ha detto di no. E allora l'America, ah sì, tu hai detto di no, sanzioni, 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 sanzioni vuol dire che impoveriscono quel paese perché la Siria non è ricca come l'America, quindi si impoverisce. Adesso c'è stato il terremoto, una tragedia umana, civile, un disastro universale e l'America, ah c'è stato il terremoto, e che ce ne frega a noi? Vuoi le Iauti? Ce li fai mettere i missili, le basi nucleari, i carri armati, le navi militari, eccetera? No, e allora che ce frega a noi del terremoto? Questa è la verità, lo so, che è assurda, è pazzesca e mi fa schifo, come mi fa schifo pure a me, ma questa è la verità. per questo non vedete e non avete visto e non vedrete mai un americano, Biden, che va in tv e parlerà di questo terremoto. sono morte più di sette mila persone, sette mila persone. Vi rendete conto? Casa, palazzi che si sono accartusciati, cioè non è che si sono lesionati, proprio come cartoni, si sono piecati sul loro stesso ed è successo di notte. ecco perché tante vittime sono state prese nel sonno. Che il Signore abbia in gloria queste anime che hanno lasciato questo mondo con questa tragedia e che soprattutto il Signore addolcisca le sofferenze di quelli che sono rimasti senza i propri cari perché li hanno perduti in questa tragedia e che siano maledetti coloro che in questi casi fanno prevalere la loro politica di business e di malaffare piuttosto che aiutare gli esseri umani.